Elia, Daniela, Elisabetta, Francesco, Pier Domenico, siamo gli attori de... La Mandragola, facetissima commedia dell'arte! Lavorare con un classico è stato in primi sul lavoro di dramaturgia, quindi riadattando il testo al nostro numero di attori, alcuni personaggi sono spariti, altri sono comparsi, per poi adattarlo alla commedia dell'arte. Il mio personaggio si chiama Ligurio ed è il burattinaio della Mandragola in questa versione, perché lui gestisce le fila di questa storia che a tratti ha molto nero ed è molto pericolosa. Col gruppo mi sono trovato benissimo, sono una squadra, sia gli attori, le attrici, i tecnici, tutti quanti, insomma, tutte quante gente di talento, simpatica, con cui è un piacere lavorare, quindi meglio di così. Lavorare con Michele More è stato semplicemente fantastico, ha tirato fuori da ognuno di noi delle caratteristiche che probabilmente nemmeno sapevamo di avere, ha avuto moltissima pazienza e ci ha insegnato veramente tanto. Da questa esperienza mi porto tantissima esperienza con dei colleghi così e tantissime gioie e anche tanta tanta fatica, quindi veni vederti!